Ciao ragazze e bentornate nel mio canale oggi sono qua per parlarvi di 4 prodotti per capelli del marchio Bioficina Toscana non sono gli unici che ho provato infatti ce n'è un altro del quale vi ho già parlato in estate in quanto è un prodotto che ho terminato già da circa 5 mesi questi prodotti sono i nuovi usciti ovvero due sono usciti a luglio e sono in particolar modo la lozione anticrespo e la lozione ricci morbidi uscirono appunto in estate e io ho avuto modo di acquistarli all'incirca nel periodo di settembre dal sito Ecco Verde che è un sito insomma che conoscono un po' tutti chi bazzica il web molto ben fornito di tanti marchi per quanto riguarda il Bio gli altri due prodotti sono ancora più nuovi sono usciti circa due mesi fa e sono uno la lozione ricci definiti e l'altro il balsamo volumizzante protettivo se i primi due li ho acquistati io questi due invece mi sono stati inviati gentilmente dall'azienda che ringrazio tuttora che mi ha dato questa opportunità parto dai prodotti top per me che sono il balsamo volumizzante protettivo e la lozione anticrespo allora per quanto riguarda il balsamo appunto avevo già provato io il balsamo concentrato attivo che era stato tanto decantato un po' da tutte ora quando si tratta di alcuni quando si tratta tipo di un rossetto di un ombretto è più facile che un prodotto vada bene un po' a tutti insomma dipende anche dal sottotono della pelle eccetera eccetera però principalmente un prodotto che va bene un po' per tutti quando si va più in cose che riguardano cioè molto più soggettive come può essere una crema viso un contorno occhi i prodotti per capelli i prodotti corpo già è diverso comunque un bagno schiuma bene o male va un po' bene a tutti a meno che non sia un prodotto proprio favoloso o chissà quanto quindi io il balsamo concentrato attivo non l'ho particolarmente amato perché per il mio ricciolo che è di consistenza normale quindi non fine assolutamente e molto riccio tendente cioè molto crespo tendente quasi all'afro alcune ciocche perché sono molto molto secche molto crespe quel balsamo per me non andava bene nella misura in cui non mi districava i capelli è vero che io l'ho utilizzato in un periodo particolare dell'anno ovvero me lo sono portato in Madagascar ciò vuol dire che i capelli erano sottoposti a maggiore stress secchezza eccetera eccetera dovuta alle condizioni ambientali però per chi secondo me è riccissima e questo me lo avevano detto altre ricce qua quel balsamo era stato decantato tantissimo ma secondo me è un ottimo prodotto ma per chi ha una tipologia di capello diversa ovvero un capello mosso un capello liscio un capello riccio però fine un riccio magari più morbido il mio è un riccio parecchio strong e questo balsamo volumizzante protettivo fa al caso mio se per l'altro 10 euro non ce l'avrei fatta infatti non l'ho più ricomprato perché per me insomma era un prodotto che l'avevo usato non avevo fatto fatica a terminarlo questi invece penso costi 9-10 euro sempre più o meno i prezzi sono questi è un prodotto che sicuramente avrò voglia di riacquistare perché tende ad aiutare a dare volume al capello districa è un prodotto che va anche a nutrire un innovativo balsamo ricco di principi funzionali formulato in modo da districare nutrire e proteggere il capello senza appesantirlo lasciandolo quindi leggero e libero per i successivi trattamenti è davvero così ogni singola parola è indicata per questo prodotto volumizza abbastanza certo non è che vi fa venire una cofana di capelli in questa maniera dipende poi dopo cosa ci andate ad applicare come asciugate i capelli ma in generale è un ottimo prodotto che si nutre ma non lo appesantisce lo protegge non lo appesantisce magari il mio perché è così tanto riccio sicuramente che ne so a Martina che è la mia migliore amica mi viene in mente che lei ha i capelli dritti a spaghetto non consiglierei mai questo ma le consiglierei il balsamo concentrato attivo quindi prodotto super promosso per la mia criniera che oggi ho raccolto in uno scignogli insomma in un pochio l'altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo ma che inizialmente se per questo insomma era stato amore a prima vista per la lozione anticrespo ho dovuto imparare a capirla per prima cosa vi dico che sono 100 ml mentre il balsamo sono 200 i classic c200 questo sono 100 ml di prodotto una boccettina che viene con il suo spruzzino e il tappino che io ho momentaneamente perso una novità per me non perdo mai niente e una lozione anticrespo protettiva per capelli lucidi e disciplinati una cosa importante di questo prodotto come viene consigliato qua dietro ed è scritto anche a caratteri grandi insomma agitare prima dell'uso cosa che io scioccamente non avevo fatto perché i principi attivi tendono a depositar è un prodotto apposo come potete sentire e i principi attivi tendono a depositarsi sul fondo un po' come tipo i deodoranti all'allume di rocca liquidi è un prodotto che va shakerato e io le prime applicazioni non avevo fatto questa cosa di agitare quindi prima di tutto agitatelo io lo utilizzo o dopo aver applicato qualche goccia di olio o di josova o di karité oppure direttamente applico questo però non lo vado a vaporizzare sulla testa perché secondo me tende non a dare un effetto più unto si tende a lucidare però forse anche troppo nonostante ci sia un vaporizzatore con un diametro abbastanza grande preferisco spruzzarlo sulla mano agito e faccio delle belle spruzzate nella mano me lo passo tra le mani e preferisco andarlo poi a mettere direttamente io con le mie manine e non a vaporizzarlo e poi a distribuirlo perché comunque è come se il prodotto appena spruzzato si va a depositare con le mani invece mi sembra che mi si amalgami bene in tutta la testa perché mi piace perché mi va a proteggere il capello dal calore del phon e come dice anche qua dietro dice che nutre e protegge i capelli dallo stress ossidativo causato da agenti atmosferici naturali sole e salsedine o chimici come smog cloro calore del phon e piastre quindi a parte questo sui miei capelli ricci la cosa che mi piace è che tende a penso che le ricce mi possano capire di più tende a farmi aggregare la cioccariccia come se mi si abboccolassero a ricciassero in maniera più definita e come se preparassero poi il capello a un successivo trattamento che nel mio caso preferisco sempre che sia un prodotto a una schiuma insomma e adesso poi ci addentriamo nei prodotti di styling comunque mi piace tantissimo come passaggio non lo lo faccio sempre l'ho fatto anche quando mi sono lisciata i capelli mi ci sono trovata molto bene state attenti alle dosi che mettete e a come lo applicate agitatelo spruzzatelo nelle mani e mettetelo così mi piace tantissimo le lisce ovviamente magari mettono meno prodotto e via via uno impara ad utilizzarlo ora io a distanza di 29 anni quindi da quant'è che posso aver iniziato da sola a farmi i capelli non lo so 20 anni a forza di provare creme liquidi sieri schiume eccetera eccetera ho capito che per la mia tipologia di riccio il prodotto che fa per me che è top è la schiuma il mio capello reagisce bene alle schiume ora la mia schiuma preferita da quasi un anno a questa parte è quella della frank provo con le scritte fucsia che non è un prodotto biologico però ha ingredienti che non mi vanno a danneggiare il capello anzi mi piace molto l'effetto lo adoro continuo a rimanere il mio prodotto per styling preferito la schiuma della frank provo ho provato appunto la lozione ricci morbidi e la lozione ricci definiti e per la mia tipologia di capello un capello che comunque si è riccio però con l'umido quando si asciuga alcune so che è come se non mi si formasse appunto il riccio se non uso un prodotto aggregante oddio spero che mi stiate capendo quindi fra i due sicuramente per me mi piace di più la lozione ricci definiti e meno per questo utilizzo la lozione ricci morbidi la lozione ricci morbidi io la vado ad utilizzare prima di tutto quella ricci morbidi esce nel tubetto in questa maniera si svita e si spreme mentre la lozione ricci definiti esce con una pompetta però senza vaporizzatore semplicemente con un buchino piccolino per non far fuoriuscire troppo prodotto la lozione ricci morbidi io la sto amando come trattamento post lavaggio capelli quando ci si lavano i capelli di lunedì il martedì mattina ci si sveglia e magari i ricci non sono perfetti come il giorno prima perché ci abbiamo dormito sopra perché comunque sono passate 24 ore dall'asciugatura ecco io prendo un po' di questo prodotto e prima per esempio utilizzavo un po' di gel d'aloe al posto di questo adesso mi sto trovando molto bene da utilizzarlo a capelli asciutti tanto per ravvivarmi un po' il riccio e per questo utilizzo mi piace tantissimo anche questo dice che protegge i capelli dagli agenti atmosferici comunque ha queste proprietà che servono a insomma proteggere il capello e inoltre dice che gli ingredienti che ci sono all'interno tendono a non appiccicare il capello ma nutrendolo rendendo i capelli ricci, morbidi e lucenti appunto per questo leggendo anche da dietro ho detto forse proprio perché non incolla mi può servire come trattamento post post asciugatura e infatti mi ci sto trovando benissimo per questo tipo di utilizzo se lo vado ad utilizzare a capelli bagnati al posto della mia schiuma non mi fa niente perché ho bisogno di un qualcosa che mi tenga un po' di più quindi se ce l'avete se non vi piace per lo avete comprato non vi piace per questo utilizzo o lo volete acquistare sappiate che insomma a me piace utilizzarlo a capelli asciutti come trattamento post asciugatura poi ultimo prodotto lozione ricci definiti anche questa sono 100 ml come anche la lozione ricci morbidi sono tutti 100 ml la lozione ricci definiti è molto simile alla lozione ricci morbidi però questa mi piace utilizzata anche al posto della schiuma quando voglio un effetto più morbido rispetto alla schiuma trovo che il capello con la schiuma mi resta più in posa e se mi devo lavare i capelli lunedì e la volta dopo il giovedì utilizzo la schiuma se li devo lavare un giorno sì e un giorno no posso utilizzare anche la lozione ricci definiti in una foto in un video forse in un video in un video che avevo fatto in un video dei prodotti preferiti del mese di ottobre qualcuno ha notato che i miei capelli erano molto voluminosi e molto belli meno abboccolati più ricciolini frizzantini e quella sera io avevo provato per la prima volta il balsamo volumizzante protettivo in combo con la lozione ricci definiti l'effetto che ne viene fuori è bellissimo mi è piaciuto veramente tanto però per la praticità per non lo so è come se sempre sì sarò ripetitiva però io preferisco la schiuma questo prodotto mi fa avere uno styling diverso quando voglio cambiare non voglio avere quell'effetto con la schiuma questo è migliore poi ora è particolarmente umido sono veramente due mesi che c'è un'umidità che fa paura quando il clima è un po' più secco mi piace di più anche questo quindi la mia review è terminata io se avete altre domande comunque lasciatemele qua sotto giù nell'info box cioè sotto nei commenti sotto all'info box io sarò ben felice insomma di rispondervi prendete la mia review ho cercato di essere di parlarvi soggettivamente per quanto riguarda appunto la mia testa e anche un po' oggettivamente per le altre tipologie di capelli perché cioè ragazzi anche fra noi lì ci sono dei prodotti che vanno bene a una e non vanno bene a un'altra quindi niente quello che magari può andare bene a me magari a un'altra non può andare bene io in ogni modo spero di esservi stata utile di essere stata chiara di avervi insomma chiarito un po' le idee su questi prodotti vi mando un bacio grande aspetto i vostri commenti mettete un mi piace se il video vi è piaciuto ciao e al prossimo video squilla il telefono ciao 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 Grazie a tutti.